Ritorniamo dal festival di Sanremo. Cristia Moretti, lei che in qualche modo mi ha fatto conoscere la realtà dei territori agricoli e devo dire che con queste belle musiche le valorizziamo ulteriormente, specialmente con queste canzoni emergenti che stiamo ascoltando dal festival di Sanremo. Il primo anno è che cerchiamo di valorizzare l'ortofrutta italiana abbinandolo alle nostre canzoni popolari, del nostro festival che a volte è criticato però lo aspettiamo tutti gli anni e siccome quest'anno è in coincidenza con Fruit Logistica abbiamo pensato di sfruttare il festival per promuovere il nostro paesaggio, i nostri prodotti agricoli. Sì, detto bene, penso che un'altra delle cose su cui dobbiamo lavorare nel prossimo futuro che tu oggi hai iniziato a presentare in maniera importante è quello che rappresenta la frutticoltura italiana. Abbiamo dimostrato di essere in grado di fare frutticoltura ma ora il binomio frutticoltura, territorio, italianità soprattutto in due carmessi importanti come quella di Sanremo da una parte e quella del Fruit Logistica di Berlino vanno a cercare di identificare il nostro prodotto con quel valore aggiunto che merita di avere. Quel prodotto che deve in qualche modo raccontare il territorio. Oggi anche a Piazza Italia dove ci si ritrova si è tornato a parlare anche di problematiche che tutti gli anni ripercorriamo. Ci stiamo lavorando? Quando parliamo di castasti ortofrutticoli per esempio? Penso che dopo le crisi che ci sono vissute soprattutto sulla frutticoltura italiana io nello specifico vorrei parlare della mia zona quindi della Romagna ci ha permesso di fare non solo riflessioni a 360 gradi ma anche di avere un pochino più chiaro quello che va fatto. Il catastrofrutticolo è sicuramente un obbligo che la produzione italiana ha bisogno di avere e di andare a costruire e a comporre e ci serve non solo per pensare a cosa produrremo nel 2017, nel 2018 ma anche quali sono gli indirizzi che dobbiamo dare alla nostra produzione. Tenendo conto, e voglio dare una chiave di lettura nuova sulle catastrofrutticolo non solo di quanto si è prodotto ogni anno ma soprattutto di qual è l'evoluzione del mercato. Ci rendiamo conto che il mercato oggi è un mercato molto più grande, è un mercato che globale non basta più per definirlo. C'è sicuramente una tendenza in atto importante in quelli che sono i cambi dei consumi, quelli che sono i consumatori, le tipologie di prodotto, i gusti e quindi sapere bene cosa abbiamo in campo e soprattutto cosa si sta facendo ci permette di indirizzare meglio quelli che sono gli investimenti futuri. I buyer della grande distribuzione, i quali ci raccontano che bisogna accorpare il prodotto per contare sui mercati. Ci raccontano qualcosa di corretto, l'aggregazione, la concentrazione del prodotto sono la base anche della mission di Agrintesa, del gruppo Allegra che noi rappresentiamo, lo sono anche del territorio emiliano-romagnolo per buona parte, tanti sono i sistemi organizzati che devono però avere una spinta superiore a quella che hanno avuto fino a qualche anno fa quindi oggi bisogna iniziare a ragionare anche su progetti ben specifici per prodotto, ad esempio Opera ne è sicuramente un esempio, tanto altro si può fare su altre specie. L'ideale sarebbe coinvolgere da una parte in questo nuovo slancio la frutticultura organizzata e bisognerebbe di pari passo anche coinvolgere quei sistemi di produzione non organizzata che in Italia purtroppo sono ahimè ancora presenti. Direttore, noi non perché vogliamo ripetere sempre le stesse cose, rifare sempre la stessa manfrina anche in televisione, però purtroppo dobbiamo ritornare a parlare di barriere fitosanitarie, un falso problema in molti casi e queste barriere non ti fanno entrare su certi mercati. Politicamente, mi perdoni, c'è qualcuno che ci sta lavorando su questo fronte? C'è più di qualcuno che ci sta lavorando, purtroppo i risultati non sono quelli che speriamo, questo dobbiamo dirlo in maniera molto franca e sincera. Abbiamo una grande possibilità in questi periodi, in questi anni, che è quella dei nuovi mercati, nuovi mercati che si stanno facendo a nuovi consumi di ortofrutta, di nuovi prodotti che noi siamo in grado di servire come sistemi organizzati. La difficoltà da una parte è riuscire a soddisfare le richieste e soprattutto riuscire ad entrare con proprio il problema delle autorizzazioni da una parte, delle barriere fitosanitarie dall'altra. Bisogna che anche su questo il sistema Italia, e mi riferisco più alla politica, mi riferisco più agli enti proposti, cercano di essere da una parte più veloci e dall'altra di comunicare più fra loro per cercare di sbloccare questa situazione che purtroppo dura da troppo tempo. Comunicare tra Italia e comunità europea o tra regioni e governo nazionale? Innanzitutto partiamo dal problema nazionale, quindi fra regioni e nazione, ministeri diciamo, quindi questa è la prima parte. Poi anche qui le istanze italiane bisogna che a Bruxelles siano portate e il lavoro da fare è da una parte riportarle a Bruxelles e dall'altra che la UE le interprete in maniera univoca per tutto il territorio europeo. Troppo spesso vediamo che i paesi dell'Unione Europea non si muovono sull'apertura di nuovi paesi in maniera organica. E l'Italia in questa maniera viene penalizzata perché è quella un pochino meno reattiva o quella che riesce ad avere nell'immediato meno aperture. Concludiamo con questo nostro salone dedicato all'ortofrutta. Berlino, fruttogistica è la fiera di riferimento per il mondo dell'ortofrutta. Direi che guardando lo stand avete tanti ospiti, buyer, che vi vengono a cercare per creare sinergie commerciali. Sì, è una bellissima occasione questa, è una bellissima occasione perché è un momento di confronto con quella che è la nostra clientela, clientela internazionale. GreenTaser è un'azienda che esporta la maggior parte della propria produzione quindi è più quello che esportiamo di quello che collochiamo sul mercato nazionale soprattutto per determinati prodotti. È un momento di confronto, è un momento di confronto con i nostri clienti, è un momento di confronto anche all'interno di quello che è lo scenario produttivo internazionale. Ci sono tante altre aziende che producono come noi, con cui ci si confronta, con cui si fanno analisi di quelle che sono state le situazioni passate e quelle che saranno le situazioni future. Ci teniamo ad esserci, ormai tanti anni che ci siamo, c'è una squadra molto rappresentativa della cooperativa, dall'apparato tecnico a quelli che sono i responsabili degli stabilimenti, a consiglio di amministrazione. Tutte queste funzioni vengono appunto a partecipare alla Fiera di Berlino perché è un momento di confronto e soprattutto di stimolo per quello che GreenTesa deve fare all'interno del proprio gruppo per quello che ha il suo ruolo in quelli che sono gli scenari futuri del mercato. I buyer da queste parti arrivano facilmente? I buyer da queste parti arrivano e soprattutto ci si confronta, che è una delle cose che magari durante la routine quotidiana, durante le trattative giornaliere, durante la stagione avviene in maniera meno frequente e il confronto porta risultati sia a loro che devono poi commercializzare e collocare al meglio le nostre produzioni e sui consumatori che a noi che dobbiamo cercare di essere più bravi in produzione e soprattutto di seguire quello che vuole il mercato. Vedendo le immagini noi ci siamo accorti che ogni stand ha la sua ristorazione perché è sempre attraverso il cibo in qualche modo, volete coinvolgerli, no? Il cibo, quindi qui abbiamo un catering italiano che porta a quello che sono le nostre specialità a Berlino e alla nostra clientela internazionale e in più per quello che ci riguarda direttamente anche il vino, no? Perché GreenTesa è una cantina, quindi offriamo ai nostri visitatori anche il vino della cantina GreenTesa. a Berlino e alla prossima a Berlino e alla prossima